Non scegliere l'indifferenza, questo è il titolo del cortometraggio degli alunni dell'Istituto Comprensivo Albert Einstein di Reggio Emilia, realizzato a Castellabate in concorso alla finale di Ciaxi Gita 2019 a Napoli. L'Istituto Comprensivo Albert Einstein è la seconda volta che partecipa al concorso, dove la prima volta nel 2017 vinse anche il trofeo al miglior film. Che cosa ne pensi del cortometraggio e dei valori che ci ha trasmesso? Questo cortometraggio per me è stato molto divertente e ci ha trasmetto dei sani valori come non bisogna essere indifferenti e soprattutto affrontare il bullismo. Perché avete proprio scelto il bullismo? Perché il bullismo secondo me è un tema importante da trattare e alcune volte le parole fanno più male degli armi. Che cosa è stato per voi rappresentare i bulli? È un'esperienza nuova, divertente, che comunque fa capire molte cose per quanto riguarda il bullismo. Come sono andati oggi ragazzi? Bene, siete stati bravi. Voi avevate imparato a memoria alle vostre parte. Chiaro che poi il regista vi ha insegnato alla dizione, a come interpretare, insomma, essere proprio partecipi di certe situazioni. Però sono stati bravi, bravi, bravi. E com'è stato recitare in questo cortometraggio? Eh, insomma, hanno fatto recitare anche me un pochettino emozionante, dai. Una novità per me, interessante e magari può far nascere in qualche uno di voi qualche interesse verso questo ramo e probabilmente serve anche perché per diminuire probabilmente la timidezza in qualche ragazzo. È una cosa bella, nuova, interessante, molto soddisfatta. Da ripetere. Come sono andati i ragazzi oggi? Sono stati attenti, hanno recepito tutti i consigli che ha dato il regista e quindi penso che il cortometraggio sarà un bel cortometraggio intenso, vissuto, ecco, con tanti spunti e tante idee. Da dove nasce la sua passione per la regia? Nasce sicuramente nel vedere la televisione perché quando ero ragazzo come voi insomma al cinema si avevano poche possibilità per entrare in una sala cinematografica, quindi sono partito dalle immagini televisive, dalla bellezza della fotografia e da lì a poco a poco ho acquistato una prima videocamera, non sono quelle di oggi, naturalmente all'epoca erano grosse così più o meno quanto sto megafono e ho fatto per tantissimi anni una gavetta incredibile per poi arrivare a realizzare il mio primo cortometraggio che ha vinto un primo premio e lì mi sono convinto che fosse magari la professione della mia vita. L'esperienza di oggi con voi è stata davvero bella, entusiasmante, siete ragazzi in gamba, l'istituto è Albert Einstein di Reggio Emilia, quindi avete anche l'intitolazione dell'istituto, è un grande personaggio, quindi continuate così, sappiate portare avanti delle belle storie come quella di oggi dedicata al bullismo e vi auguro a fine settembre un in bocca al lupo per il concorso Ciaxi Gita 2019 che quest'anno è giunto all'ottava edizione e quindi auguri a tutti e soprattutto ragazzi studiate perché nella vita per realizzarsi soprattutto serve un grande apprendimento. Dove ci troviamo oggi? Oggi siete i nostri ospiti a Villa Matarazzo, Villa Matarazzo è una delle sedi del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, rappresenta un po' la storia del comune in cui vi trovate, il comune di Castellabate che a sua volta si trova in un ambiente ancora più ampio che il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, comprende questo parco, è 80 comuni, è un parco molto molto esteso e va dal mare alla montagna alla collina.